Siamo con Ryan Gibbons, l'ultimo anno eravamo a 923 in Giro della Valle Roste, ci metto con il rosso rosso e ora sei un pro con Dimension Data. Come è il Giro? Sto piaciuto, sono molto grato di essere qui. Mi piace l'esperienza e faccio la maggior parte. Quale è la prima impressione di ride in Giro con i pros? Sono un personaggio molto competitivo. Sono un'esperienza, non mi sembrava di sperare. Non mi sembrava di sperare, ma sono competitivo, quindi non mi sembrava di sperare. Non mi sembrava di sperare, ma mi sembra di sperare. Quale è il Giro? Sei contento di questo? Non mi sembra di ride in Giro. Se perdere 10 minuti o 2 ore, non mi sembra di differenza. Ok, grazie.